Grazie, sottosegretario, colleghe e colleghi. Io volevo fare alcune riflessioni sul dibattito che si è creato in queste ore, in questi giorni a proposito di questa riforma. Noi abbiamo sempre detto come Lega che siamo favorevoli ad una riforma integrale, organica, incisiva del sistema giudiziario e abbiamo sempre detto all'indomani dell'approvazione alla Camera dei Deputati che avremmo lavorato in questa Camera perché fosse migliorata la riforma cosiddetta Cartabia. Lo abbiamo sempre detto perché la Lega è stata coerente con se stessa, è stata trasparente nei confronti degli italiani ed è stata anche corretta nei confronti degli alleati che in questo momento compongono la maggioranza che sostiene il governo Draghi. Abbiamo sempre detto che la riforma, così come uscita dalla Camera dei Deputati, non ci dà soddisfazione e che avremmo provato, così come faremo, a migliorarlo presso il Senato. C'è, per chi è malfidato, e la cosa mi dispiace, rassegna stampa del 27 di aprile, del 22 di aprile che dice chiaramente qual è la volontà della Lega di migliorare la riforma Cartabia al Senato lo dice il Corriere della Sera, lo dice Libero, lo dice Repubblica, lo dice la stampa, lo dice il Sole 24 ore. E non è nemmeno, come qualcuno ha voluto far credere questa mattina, che la volontà di mantenere gli emendamenti al testo sia la reazione al referendum. Lo avevamo detto dall'inizio, avevamo un convincimento forte e consolidato dall'inizio l'unico effetto che ha suscitato il referendum è che quel convincimento si è rafforzato perché il referendum è stato di per sé una grande e straordinaria vittoria in quanto è stato un esercizio democratico che noi abbiamo voluto insieme a tanti altri soggetti politici e dalla società civile italiana e che alcuni decantano ma che evidentemente poi al momento pratico non riescono a dare il giusto valore. Ed è stato anche un grande successo perché i sì hanno prevalso di gran lunga sui no e quei dieci milioni di italiani che si sono recati alle urne meritano rispetto e meritano considerazione. In questo momento l'unico modo per dare rispetto e considerazione è portare avanti quegli emendamenti per migliorare il testo che è uscito dalla Camera. E dico per inciso, e mi permetto di farlo poiché prima di me lo ha detto qualche persona molto più autorevole di me che ha partito in un mondo diverso dal mio, ovvero Violante, ovvero Spataro, che è l'unico vero fallimento in questa vicenda è rappresentato dallo sciopero incomprensibile dei magistrati. Quello è stato l'unico vero fallimento che ha segnato uno spartiacque, ha segnato uno spartiacque tra un vecchio modo di intendere il rapporto tra la magistratura e il Paese ed un nuovo modo di intendere quel rapporto che evidentemente è stufo della vecchia logica e della vecchia interpretazione. E quindi noi siamo contro la riforma Cartabia? No, per niente. Noi siamo favorevoli perché si riformi la giustizia, altrimenti non avremmo promosso il referendum. E diciamo che questa riforma però deve essere degna di questo nome, deve essere una riforma più incisiva, deve essere una riforma vera e non ci accontentiamo dell'equilibrismo che questa maggioranza innaturale comunque impone. Perché noi dobbiamo dar conto al nostro Paese, dobbiamo dar conto agli italiani. Sul CSM, l'ha detto prima il collega Simone Pillon, è una riforma scialba che in realtà non annulla le correnti e non annulla il potere delle correnti. E siamo convinti ancora oggi che la via maestra perché ciò accada sia il sorteggio integrale, temperato, ma andiamo sulla logica del sorteggio perché è l'unica strada che ci consente di spezzare il legame tra le correnti e la magistratura. Sulla valutazione dei giudici va bene che ci sia un fascicolo annuale e non più quadriennale, ma va anche bene che a pronunciarsi sulla valutazione non siano soltanto i membri togati dei consigli giudiziari, ma anche i membri laici, docenti universitari, avvocati. Sulla separazione delle funzioni avremmo voluto e vogliamo, e lo faremo in questo dibattito, in quest'Aula, quest'oggi, più coraggio perché si decida dall'inizio del percorso lavorativo e professionale se si sta dalla parte della magistratura requirente o se si sta dalla parte della magistratura giudicante. E sulle porte girevoli, anche su questo noi siamo d'accordo. Siamo d'accordo perché teniamo che chi fa politica debba rimanere fuori dalla magistratura, perché chi decide di appartenere ad un partito politico, ad un movimento politico, decide in maniera legittima di non essere più imparziale, decide di abbracciare una ideologia, di abbracciare un mondo, di abbracciare determinate logiche che non gli consentono più di essere magistrato. E questo deve valere, purtroppo il testo su cui stiamo lavorando non lo prevede, non solo per chi ha l'onore e l'onere di essere eletto all'indomani di una campagna elettorale, ma anche per chi vuole semplicemente candidarsi. Perché il momento del discrimine non è l'elezione, ma è la candidatura. In quel momento si manifesta la volontà di appartenere ad un'area politica piuttosto che ad un'altra area politica. Siamo soddisfatti, per esempio, dello stop alle nomine a pacchetto. Siamo anche soddisfatti rispetto alla riduzione del numero dei magistrati, lo dico con rispetto, tra virgolette, che vengono parcheggiati verso i ministeri. Ma avremmo voluto più coraggio, avremmo voluto più incisività, avremmo voluto più organicità. Qualcuno dice facciamo presto perché ce lo chiede l'Europa, perché dobbiamo attuare il PNRR. È vero, e va rispettata questa volontà. Lo ha detto prima però il Presidente Ostellari. L'Europa ci chiede non solo di fare presto, ma di fare bene e di fare meglio rispetto a quanto non sia stato fatto in passato. Ma noi diciamo di più, dobbiamo riformare il sistema di giustizia perché ce lo chiede l'Italia, perché ce lo chiedono gli italiani e non come fa l'Europa da qualche mese, da anni, da decenni, perché l'Italia sia all'altezza della sua storia e della sua grande civiltà. Per questo non possiamo sciupare questa occasione storica, che non ritornerà probabilmente, o meglio, non ritornerà in questa legislatura. Sicuramente lo faremo nella prossima quando ci sarà una maggioranza di centrodestra più coraggiosa, più omogenea, che ha una visione diversa, più sana del sistema giustizia. E l'ultimo appello che faccio a quest'Aula. Devo invitarla a concludere. Non ricordo che concludo, Presidente. Parliamo di giustizia, cioè di quel pezzettino del nostro sistema Paese che giudica la nostra libertà in alcuni casi e il nostro patrimonio in altri casi. Non sfruttiamo quest'occasione storica per fare una vera, reale riforma che gli italiani vogliono, per la quale gli italiani ci hanno dato fiducia. Grazie. Grazie.